Noo, meno... Ma ora facciamo cos'è? Ok, va giù Allora ragazzi Già stai registrando? Sì Allora, siamo qui... Ah, c'è camma tra si No, vai giù No, vai giù Come siamo qua? Andiamo ormai siamo tra giù Vai giù A Gia Annunz Che ne pensi Giorgio di questa entrata? A Torci Tu che ne pensi di questa entrata? Giorgio mi sa Torci E tu che ne pensi di questa entrata? Tu che ne pensi di questa entrata? Ma che ne pensi di questa entrata? Com'è ci metto? Non ci metto lo flash? No, no, te li metto Un giù è subito Abbiamo chato C'è e lo sento di questa entrata? No, non è l'acqua ... Ecco No, non è l'acqua Ai l'acqua Non è l'acqua Non è l'acqua Si Non è l'acqua No, non è l'acqua No, non è l'acqua No, non è l'acqua Non è l'acqua No, non è la passata Non è l'acqua No No Non è l'acqua Oh! Come si fa se lì? Ah, aca Quanti stai niente? Quanti stai niente? Chi stai niente? Il caso non vede per me Quanto vuoi dimostrare? Quanto vuoi? Da qui non si sa Non ci sa di qui Non ci sa di qua No Ma la mia casa è una merda è grande nooo Ieri? Ieri? Sono nati come Claudio e non come? No, ma è stato Pariano Vagio, mi metti a paura Vagio, veni Pariano no, però... I miei andi elettri, che sei qua Vagio, vagio, uomo, sei un'arrazione Sei passato a dire un anno l'altro Voi i marossi, il mio nante Non lo credo, ma... Stai riusci su questo Ma che è il ca... Vai non lo c'è Ma che è il ca... Ma cazzo Guarda, stai riusci a riuscire a riuscire a riuscire Ma non lo c'è Tutto, vedi, ci fa Cazzo Cazzo Ma cazzo, non c'è su diese Cazzo non c'è niente, c'è una panna di due qua e non c'è niente e non c'è niente oh, fai vedere le sighe fai delle sighe dai così, così fanno le sighe tutta la scuola e non c'è niente e non c'è niente non c'è niente hai un certo di sito ma c'è niente non c'è niente non c'è niente a me, in do boscia in boscia ragazzi, scusate se è giorno però eh, guardi però camminate fa camminare qui e c'è niente non c'è niente ma 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 c'è niente che c'è niente a spina ma vabbè ma vabbè ma c'è niente ma non c'è niente ma c'è niente però vedete le ricette che ci stanno muschi e ci stanno riconoscendo ah boh, vieni in giamaro ehm, chiedevo in giamaro chiedevo in giamaro chiedevo in giamaro vieni 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 ma te un bucchi ma te un bucchi ma io sto registrando vieni che cosa non ti sei ma tu esci Eh, però fai schifo a creare di... Eh, non mi sono spingato. Ma già, fai schifo con me. Eh, però non mi sono andata troppo azzipata, che non è... Adesso è tutto? Sì. Eh, Gabriele, però... Avanzare, senza volerlo. Gabriele... Non devi fare paranoia. No, 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 non mi sono andata. Guarda, guarda, guarda! Se succede qualcosa, non mi fai scoperto, non mi fai scoperto. Ho pure il salone con i figli. Non mi fai scoperto, non mi fai scoperto. Eh, tu pensi che... Non mi riusciranno a destra qualcosa, per assai. Se c'è una bisciata... Vabbè, un bisciata... Ma buono che adesso, non mi fai scoperto. . . . . . . Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. non è un po' di parte, ma è il campino ma io parlo a comprare una segna nera, ma no perché aveva ragione Gabriele, noi abbiamo segno di poter andare a scambi ma da di tutto non vi sia un'altra e dice che non credete che non metterà e non c'è, e non è che non si impara e diciamo che non voglio usare un'altra cosa voglio usare un'altra Ok, guardi, dai. Lì. Non si leva, pure. Non devo ancora tenere la batteria di riserva. Ma qua, se potete vedere, si. Adoro, guardi, qui c'è uno stabilimento, c'è tre sim, ma non è che... fa che sei che paura. Poi dimostrare la parola? Ma è la parola. Ma aprile, cos'hai pensi di questa? Cos'hai pensi di questa atmosfera? Ma non la portano. Quattro a quando la signora, quando c'è il mondo, ti chiedi di quello che c'è. Qua c'è i paveri, fatti. Ma ci sono delle stanze, quindi, poi due. Ma hai dovuto vedere il mio mare che c'è il mio mare. per il mio mare, un po' di meno, un po' di meno, un po' di meno. Chi è? Un po' di meno. Sshhh. Sto registrando ancora qui. Qui a me, qui a me. Vai giù. Ragazzi, come non fate queste cose, Perché può accadere qualcosa Ma in casa è in piedi Può accadere qualcosa Ma non c'è l'elettricità Quello si muove Ma adesso è una puntatura Vieni l'aria riuscita Pripera Non ci ric Burcham Ma non c'è L'aria riuscita io voglio che è sembrato va buona questa esperienza però vai di tutto quello che vuole ma si potrò un tocco e la scuola ma si va a prendere adesso si va a caer ci facciamo tutto sto giuro ci facciamo sempre Anarchia totale stanno alberi nell'alto ma ci stanno a maniglio vicino a quella porta? ma ci stanno a maniglio vicino a quella porta? non lo so non lo so lo so ci stiamo a mannettare la mia si un sacra 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 e c'è un sacra si un sacra Oggi entriamo? Emo entriamo? Ed è là. Chi ti ha spettato? A posto. Poi si vengono? Che c'è? Che c'è? Quante cazzo di stanze dovrà avere? Non mi ha approfittato. Non mi ha approfittato. Ora vengo ragione. Sennò non puoi morire. E' bene. 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 Rituromo Non leone, hai occhio scuro, ricordi Tu parmi, ma guarda che ti dimentico Mi ha detto di me tu sei freddo e sei annand E tutto prima non volevo Non volevo andare No, è un decorridoio all'uovo C'è un Giacci e Gabriele Ehm. Shoo. Ha smellrovati at kimse, mam don'alti! Ha vedi un boiasse, stai romanzi. Siii. E' una piazza C'è una piazza E' una piazza E' una piazza stai merito a qua vediamo ci stanno incontro tu ci fai vedici a farlo ma non ci fai ma non ci fai non ci fai non ci fai non ci fai dai non ci fai ma hai mai ma per la sera vedi la casa è tre piani ci stanno in scala ma non ci fai ma c'è qualche tigone ma non ci fai 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 E' stato fatto un piano in più E' stato fatto un piano E' stato fatto un piano E' stato fatto un piano Ma inizia la mano E' stato fatto un piano Un'altra parte E' stato fatto un piano Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 ma è mezzo metro di piante Claudio, mezzo metro tu che ti vuoi fare i corritori? o dici che tu non devi vestirmiare? ma io stavo accorto le tombine stiamo passando, passando, stiamo mettendo il busto calma, calma, calma guarda quanto hai visto porno tu mi vuoi accartare ora sei venuto non c'è mai visto ce l'abbiamo fatta due volte andate in ritorno quindi il notale 4 non c'è un cazzo è bello è bui, guarda no, no, guarda la prossima volta no, la prossima volta mi tengo troppo oggi non sappia perché sono venuto, sono pauroso ma la prossima volta mi convinco io sei venuto con me come succede qualcosa mi prendi con il buce e ben amaro è buon io non guarda non fare no 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 ... ... ... ok intercorrido vedete sei sicuro che mi piglia dalla capata ora sei in un stabilimento stiamo senza torce anche io devo tenere il scarico quanto ti? a 10 vieni c'è la faccina no perchè si se ne vanno c'è la doccia a me la doccia è libero e tu lo tessi capo in decorridoio dove fai? mi sono cagato il malastro sono chi? sono chi? nonostante 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 io ho visto fenomeni paranormati nonostante è una breve creatura in dei film e voi siete dei ragazzini o io o no? non lo so non lo so io prendi coraggio ho avuto questo stabilimento e c'è un piano che si può uscire è una parte rossa rossa come si fosse rubato io nella fiera non lo so se viene un po' la sirina guarda, ti presenta? hai visto l'apertura? ci sono le vostre due quando fai rossa io dico che ti hanno messo nel tuo c'è anche a dire che mi metto il tuo ma che mi fai? mi fai zumba qua a me tu ce la fai qua non posso guardare guarda, vai cadete? non sei, non è niente che non è buio è paurosa prima mi aveva sentito il gerese mute perciò 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 ci sono qui perciò